Stonjet, Luigi Rubino, il 2 Riboy K, Ciro Ciccarelli, il 3 Solo Caff, il 4 Unica GSO, il 5 Vida Loca Rock, il 6 Universal FIAR LF 150 metri ora allo stacco della macchina parte piano Vida Loca Rock C'è lotta tra Unica GSO e Universal FIAR LF che sopravanza l'avversaria e riesce a passare al comando poi terza posizione per Riboy K davanti a Solo Caff in coda Vida Loca Rock, falloso Volton Jet quintetto dei superstiti in fine indiana e primo quarto che va via addirittura in 27.8 Universal FIAR LF che si è un po' scatenato nel lancio per superare Unica GSO poi Riboy K davanti a Solo Caff e Vida Loca Rock in coda con il leader che ora riesce a moderare l'andatura anche in maniera piuttosto sensibile e giunge infatti al paletto di metà gara in 59.4 quindi secondo quarto decisamente più lento in 31 abbondante per Universal FIAR LF pedinato sempre da Unica GSO, poi Riboy K quindi Solo Caff e Vida Loca Rock con situazione tattica che non cambia Universal FIAR LF che comanda su Unica GSO Riboy K che accenna a spostare Unica GSO che naturalmente è pronta all'anticipo per affacciarsi su Universal FIAR che a sua volta sta allungando ci si prepara per la volata finale Universal FIAR che ha ora Salchi Unica GSO poi Riboy K, Unica GSO in vantaggio su Unica GSO e Riboy K con Unica GSO che va all'attacco di Universal FIAR e lo sta rimontando poi Riboy K, Solo Caff e Vida Loca Rock che è passata Unica GSO nei confronti di Universal FIAR e Riboy K nel finale Unica GSO che va a vincere davanti a Universal FIAR e Riboy K 4-6-2 l'arrivo ufficioso della terza di capannelle 1-58 sul mio cronometro 1-58 media di 1-13-8 per Unica GSO e Filippo Monti per il training di Holger Ellert ha dato strada a Universal FIAR e LF ma poi è avanzata di spunto anticipando Riboy K e ha battuto chiaramente il leader che però è rimasto secondo proprio davanti a Riboy K 4-6-2 lì nello studio 1-5-2 lì nello studio 4-6-2 lì nello studio 5-2-1 lì nello studio 2-1 lì nello studio